Dai creatori di Darkness With Him, ecco con Arium, un horror game tratto dai racconti di Lovecraft, che vi terrà col fiato sospeso, come scopriamolo in questa recensione. Sviluppato da Zoitrap Interactive, gli stessi di Darkness With Him, e pubblicato da Iceberg Interactive, con Arium è un thriller horror game per PC. In questa recensione andremo a vedere i vari aspetti positivi e non del gioco. In Conarium impersonerete i panni di Frank Gilman, uno scienziato membro di una spedizione all'Antartide. Il gioco inizierà non appena vi risveglierete in una stanza illuminata da uno strano marchigegno in una base archeologica. Poiché sarete affetti da un'amnesia, dovrete capire a cosa è successo a voi e al resto della spedizione, mentre sarete sconvolti dalle vostre inquietanti allucinazioni. Fin da subito vi sentirete immersi nella storia grazie ad una narrazione derivata da video e dai vari documenti sparsi per il gioco. La trama non sarà lineare, per cui sarete tenuti durante il gioco a fare delle scelte ottenendo così differenti finali. Durante tutto il gioco inoltre saranno svariati i riferimenti ai racconti dello scrittore gotico Horror Lovecraft. In particolare il gioco sarebbe un seguito di Le Montagne della Follia, uno dei più celebri tra i suoi racconti. Il gameplay di Conarium è molto semplice e intuitivo. Il vostro personaggio infatti dovrà esplorare il mondo di gioco e interagire con gli oggetti per scoprire informazioni o ottenere elementi utili per la risoluzione degli enigmi. Tale ricerca dovrà essere molto meticolosa in quanto gli sviluppatori hanno nascosto molto bene gli oggetti utili. Ciò che raccoglierete sarà sempre a vostra disposizione nell'inventario. Unica pecca è una telecamera un po' rigida e imprecisa che potrebbe nauseare il giocatore. Il gioco alterna bene le fasi di narrazione e di enigmi, evitando la monotonia del girovagare per le varie stanze. Tutto ruota attorno alle indagini, evitando completamente i combattimenti. Tale scelta è dettata molto dalla storia, in quanto per generare un maggiore senso di angoscia per gran parte della storia sarete soli e nel caso incontrerete qualcuno, più che combattere dovrete scappare a gambe levate. Come detto, per capire cosa vi è successo dovrete esplorare il mondo di gioco. Un mondo di gioco davvero ben curato, grazie all'Unreal Engine 4. Infatti, con Arium offre texture pulite e nessun calo di framerate. Inoltre, le ambientazioni prevalentemente immerse nel buio sono ben scelte e azzeccate, creando un costante senso di ansia. Ottimi gli effetti di luce e di ombra che aiutano a creare un'atmosfera lucubre ed inquietante. A rendere il tutto più intento ed emozionante ci pensa la parte audio, quest'ultima molto curata soprattutto per quanto riguarda i rumori ambientali che svolgono un ruolo fondamentale nell'immergere a fondo il giocatore. Il gioco è disponibile in lingua inglese, che dispone di sottotitoli in italiano anche se non del tutto apprezzabili. Con Arium in conclusione è un gioco che svolge appieno il suo ruolo di thriller horror game, ben curato sotto l'aspetto tecnico e un gioco che vi invoglia a giocare e rigiocare per sperimentare diverse vie e possibilità. Una trama vincente che vi trascinerà in un'emozionante avventura che vi farà venire il batticuore. Il gioco, anche se con qualche piccola pecca, è un titolo che merita veramente di essere giocato.